All'avvocato Umberto Burla è il contributo culturale e civile offerto alla sua amatissima città. Grazie. Consegnato questa mattina un riconoscimento all'avvocato Umberto Burla, quali sono le motivazioni che l'hanno portata a consegnarle questo premio? Perché Umberto Burla è una persona speciale per l'opera che ha svolto di approfondimento della storia della città e per i tanti momenti, tanti gesti e tante presenze nei vari luoghi nei quali lui attraverso anche i suoi incarichi si è trovato, ha sempre dato il segno di un amore molto profondo, vero, nei confronti della comunità e della sua città. E allora mi è sembrato doveroso un riconoscimento per tutta una vita di amore per la sua città. Ecco, tutto qua. Una cosa molto semplice ma anche molto bella e molto sentita perché l'avvocato Umberto Burla è una persona rappresentativa proprio di tutti coloro che hanno un rapporto forte e intenso con la città della Spezia. Amo la Spezia. Io, dopo la mia famiglia e il mio lavoro, il mio pensiero va sempre e soltanto alla città. Io, non solo perché è meravigliosa, ma perché per me è il paradiso in terra proprio. Ecco, devo dire, non saprei che altro dire. Ecco, le parole del sindaco riassumono molto bene e la targa anche. È vero, anche. E quindi non avrei proprio niente altro da dire. Io sono contento che i miei figli vedano che il loro padre abbia avuto questo premio, diciamo. Ecco, anzi, senz'altro, questo è un premio, è un riconoscimento, quindi è un premio. Non avrei altro da dire. Grazie. Grazie mille.